Allora questa sera abbiamo una scuola veramente molto speciale, è una scuola che viene in trasferta ma fino a un certo punto, loro sono di Ferrara, sia Ferrara che Rumigo, ma sono anche molto conosciuti in zona perché sono bravissimi. Allora intanto cominciamo con un applauso per Los Ruberos! I maestri sono poco e amo e dopo ci presenteranno anche tutti i ballerini, questa sera ci presentano uno spettacolo che è un misto di rumba e salsa lo spettacolo ha lo stesso nome della scuola, più o meno, grande applauso para Los Ruberos! Scuola la scuola, mi recargo, mi recargo e la scuola! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.